Nell'esercizio di questo video si chiede di calcolare l'integrale della funzione a due variabili definita da x diviso x quadro più 2y quadro sul dominio d dato dagli insieme dei punti, quindi l'insieme delle coppie x e y appartenenti al piano cartesiano, tali che x alla seconda più y alla seconda sia compreso tra 1 e 4 e sia x che y siano quantità positive. Prima di calcolare l'integrale andiamo a rappresentare graficamente il nostro dominio d, quindi questo qui è il piano cartesiano, x, y, mettiamo un'unità di misura, quindi facciamo 2 quadretti vale 1, 2, diciamo, 1. Allora, noi dobbiamo rappresentare il nostro dominio d, iniziamo studiando la prima condizione, ovvero x alla seconda più y alla seconda compreso tra 1 e 4. Andiamoci prima a disegnare, diciamo, gli insiemi di livello, quindi x alla seconda più y alla seconda non maggiore o uguale, ma proprio uguale a 1 e poi x alla seconda più y alla seconda uguale a 4. Se ci disegniamo x alla seconda più y alla seconda uguale a 1, questa qui banalmente è la circonferenza di centro l'origine e raggio 1. quindi è quella che ora vado a tratteggiare. Mentre se vogliamo disegnarci x alla seconda più y alla seconda uguale a 4, questa qui di nuovo, diciamo, qui, osservazione, x alla seconda più y alla seconda uguale a 4 è di nuovo una circonferenza di centro l'origine, ma stavolta il raggio è 2, dato che 4 si scrive come 2 alla seconda e quindi, se ce ne andiamo a disegnare, è la circonferenza che sto andando a tratteggiare. Bene, noi volevamo l'insieme di tutti i punti che sono tali che x quadro più y quadro sia più grande di 1 e minore di 4, quindi sono l'insieme dei punti che sono compresi tra queste due circonferenze, è questo anello circolare qui. Però poi abbiamo anche altre due condizioni, ovvero x maggiore di 0 e y maggiore di 0, che ci dicono che x deve stare da questo lato del piano e y deve stare da quest'altro lato del piano e dunque l'unica conclusione possibile è che il nostro dominio d sia quello racchiuso da questo settore circolare. Quindi quel dominio che sto andando a colorare in giallo. Questo qui è il dominio d. Adesso è evidente che se vogliamo calcolare l'integrale su questo dominio d, siccome d è un dominio che ha simmetria radiale, il miglior cambiamento di coordinate che possiamo fare per semplificarci l'integrale è passare a coordinate polari, quindi è proprio quello che andiamo a fare. Quindi facciamo il cambiamento di coordinate che poniamo x uguale a ρ cosθ, y uguale a ρ senθ. ρ rappresenta la distanza dall'origine di un punto xy. In questo caso quando stiamo nel nostro dominio d, la distanza dall'origine di un punto xy che sta nel dominio d è sempre compresa tra 1 e 2. Quindi ρ appartiene all'intervallo chiuso 1 a 2, mentre θ che intervallo appartiene? Beh, θ parte da 0, quindi l'angolo nullo, fino ad arrivare a 90 gradi che è l'angolo che vale π, quindi θ appartiene all'intervallo 0π, quindi il cambiamento di variabili che stiamo facendo è il seguente, φ che prende l'intervallo 1 a 2 per 0π, il prodotto cartesiano, quindi prende una coppia ρ appartenente 1 a 2 e θ e gli associa una generica coppia del nostro dominio d, quindi gli associa la coppia xy data da x uguale a ρ cosθ, y uguale a a ρ seno di θ. Per calcolare, per quando facciamo un cambiamento di variabili, per calcolare l'integrale, il cambiamento di variabili ci serve calcolare il determinante della matrice giacobbiana, la matrice giacobbiana è la seguente, la prima componente è la derivata rispetto a ρ, quindi è la derivata rispetto alla prima variabile della x, ovvero di ρ cosθ, quindi la derivata rispetto a ρ di ρ cosθ fa cosθ, la seconda componente è la derivata rispetto a θ della x, che quindi è meno ρ senθ, perché la derivata di cosθ rispetto a θ è meno senθ, e poi così avanti la terza componente è la derivata rispetto a ρ della y, che quindi è senθ, e la quarta componente è la derivata rispetto a θ della y, che quindi è ρ cosθ. A questo punto noi vogliamo calcolarci il modulo del determinante della matrice giacobbiana, questo qui è il modulo, il determinante sono i prodotti incrociati, quindi quello otteniamo è cosθ per ρ cosθ, quindi è ρ cosθ, meno, e poi di nuovo meno, quindi più ρ senθ, quindi ρ che moltiplica cosθ più senθ, ma adesso vi ricordo che cosθ più senθ fa sempre 1, ρ è un una distanza dall'origine, quindi è sempre maggiore o uguale di 0, quindi il modulo è superfluo, e quindi il determinante dello giacobbiano è proprio ρ. A questo punto usiamo la forma del cambiamento di variabili per calcolarci l'integrale. quindi l'integrale sul dominio d della funzione x diviso x quadro più 2y quadro in dx dy diventa non più l'integrale su d, ma l'integrale sulla controimmagine d, rispetto al cambiamento di variabili, quindi l'integrale su questo prodotto cartesiano. L'integrale sul prodotto cartesiano è 1, 2 per 0π. Adesso la funzione, quindi la quantità x diviso x quadro più 2y quadro non dobbiamo più calcolarla in x e y, ma in ρ è θ, quindi dobbiamo sostituire al posto di x la sua espressione come ρ cosθ e al posto di y la sua espressione come ρ senθ. E quindi otteniamo ρ che moltiplica cosθ diviso ρ alla seconda cosθ più 2 ρ alla seconda seno alla seconda di θ e poi il tutto che moltiplica il modulo del determinante della matrice giacobbiana, ma abbiamo visto che il modulo del determinante della matrice giacobbiana è proprio ρ. E poi facciamo tutto questo diciamo in ρ dθ. Integriamo rispetto alla variabile ρ e alla variabile θ. A questo punto facciamo tutte le semplificazioni che possiamo fare. Allora, innanzitutto facciamo osservazione che l'integrale su un prodotto cartesiano possiamo scriverlo in questo modo, quindi l'integrale prima sul primo insieme, quindi l'integrale tra 1 e 2 dell'integrale tra 0 e π mezzi. Allora, sopra abbiamo ρ alla seconda cosθ diviso, mettiamo un ρ alla seconda in evidenza, ρ alla seconda che moltiplica cosθ più 2 seno alla seconda di θ e ora dobbiamo integrare prima in dθ e poi in dθ, proprio perché abbiamo messo come intervallo di integrazione, l'integrale più interno agli estremi che variano come varia θ. Facciamo le semplificazioni che possiamo fare, questo ρ alla seconda e ρ alla seconda possiamo semplificarli, quindi quello che rimane è l'integrale tra 1 e 2 dell'integrale tra 0 e π mezzi di cosθ tutto diviso cosθ più 2 seno alla seconda di θ, il tutto in dθ. Ora, questo 2 seno alla seconda di θ possiamo riscriverlo come seno alla seconda di θ più seno alla seconda di θ, questo perché? Perché così possiamo mettere insieme questo coseno e questo seno e sappiamo che coseno alla seconda più seno alla seconda fa 1, quindi questo qui possiamo scrivere come l'integrale. Ora, nulla di tutto quello che è dentro quest'integrale rispetto a θ dipende da ρ, quindi questo qui è semplicemente l'integrale tra 1 e 2 in dθ per l'integrale tra 0 e π mezzi di cosθ diviso 1 più seno alla seconda di θ, questo in dθ. Perché abbiamo fatto questa moltiplicazione qui? Perché abbiamo detto che tutto quello che sta qui dentro non dipende da ρ e quindi nell'integrale rispetto a ρ viene trattato come una costante e le costanti possono essere portate fuori dall'integrale. In questo caso abbiamo scritto un per e poi abbiamo scritto la costante. Quindi abbiamo l'integrale tra 2 e 1 in dθ è semplicemente l'integrale della funzione 1 in dθ, quindi la lunghezza dell'intervallo 1-2. La lunghezza dell'intervallo 1-2 vale 1, quindi 1 per l'integrale tra 0 e π mezzi di coseno di θ diviso 1 più seno alla seconda di θ in dθ. Quindi dobbiamo calcolarci questo integrale. L'idea è di nuovo di fare un cambiamento di variabili perché riconosciamo subito coseno di θ come la derivata della funzione seno di θ e noi al denominatore abbiamo proprio 1 più seno alla seconda di θ. Quindi facciamo il seguente cambiamento di variabili e poniamo t uguale a seno di θ. A questo punto il dt diventa la derivata rispetto a θ di seno di θ che fa quindi coseno di θ in dθ, ovvero proprio il numeratore. Coseno di θ in dθ è proprio la quantità che abbiamo qui al numeratore. Quindi questo qui, il nostro integrale, diventa l'integrale. Quando θ è uguale a 0, seno di θ vale 0, quindi t vale 0. Quando θ è uguale a π mezzi, seno di π mezzi vale 1, quindi t uguale a 1. E poi abbiamo coseno di θ per dθ al numeratore diventa dt e sotto abbiamo 1 più t alla seconda. Ma a questo punto una primitiva della funzione 1 diviso 1 più t alla seconda la conosciamo, è arco tangente dt valutata prima in 1 e poi in 0. Quindi abbiamo arco tangente di 1 meno arco tangente di 0. Quanto fa arco tangente di 1? Arco tangente di 1 è quell'angolo tale che la tangente fa 1, ovvero è π l'angolo π quarti, e arco tangente di 0 è quell'angolo tale che la tangente fa 0, ovvero è 0. E quindi la conclusione, il nostro risultato è π quarti. Con questo abbiamo concluso l'esercizio. Grazie.